è arrivato il momento di parlarvi di Ape questa azienda che distribuisce giochi per bambini ed è un'azienda veramente molto molto rinomata perché distribuisce giochi intelligenti e soprattutto rispettosi per l'ambiente per questo che Ape con la H davanti ma noi diciamo Ape eh è love è play è learn proprio per questo Ape dà forma a un mondo di giocattoli per tutti i bambini per stimolare la loro voglia di giocare esplorare ed apprendere e lo fa rispettando il mondo dei bambini di domani utilizzando appunto materiali sempre innovativi sostenibili e rinnovabili per lasciare il pianeta in condizioni migliori di come l'abbiamo trovato ma la cosa interessante di Ape e io qui ho in mano un gioco che è addirittura enorme è gigantesco vi sto eh praticamente sto prendendo in mano green planet ed è un gioco molto istruttivo molto educativo perché permette al bambino di capire come si può vivere in un mondo green per cui se noi cominciamo già da adesso ad educare i nostri figli i nostri nipoti ad un mondo più bello mondo più ecologico a un mondo più rispettoso dell'ambiente sicuramente eh nel prossimo futuro il nostro ambiente sarà il nostro ambiente il nostro mondo sarà sicuramente migliori potete scoprire comunque tutti i giocattoli e le novità e le categorie più famose sul sito Ape punto com scritto con l'h davanti e c'è tutto un mondo da scoprire vi voglio ricordare che Ape e giochi educativi per bambini Ape è love e play è learn Millennium